Siamo adesso alla pagina dedicata al campionato di eccellenza, domenica c'è lo spareggio secco per la promozione in serie di Tra, Ugento e Biceglie. E oggi con molto piacere parliamo della realtà salentina che tanto bene ha fatto nella prima parte di stagione in eccellenza. Lo facciamo con il Presidente dell'Ugento Massimo Denuzzo che saluto e soprattutto ringrazio per la disponibilità. Buon pomeriggio, ben ritrovato Presidente. Buon pomeriggio a voi, complimenti soprattutto per la trasmissione e grazie per l'invito. Grazie a lei Presidente. Parto dalla domanda più scontata perché fra due giorni si gioca a Francavilla Fontana. Fischio d'inizio alle 16.30, Biceglie contro Ugento che vince ma direttamente in serie di chi perde Formula Cuscinetto. Playoff nazionali di eccellenza. Sensazioni a 48 ore più o meno da questa sfida? Diciamo che ci sono le giuste tensioni del momento. E' un periodo che comunque si sta vivendo con molto entusiasmo e con molta tranquillità anche da un certo punto di vista. L'ambiente è carico e vedremo che cosa potrà accadere. Comunque, ripeto, torno a dire ci sono delle giuste sensazioni, le giuste emozioni e tensioni che è giusto che ci siano davanti ad un appuntamento del genere. Presidente, provo a riavvolgere un po' il nastro della vostra stagione. Probabilmente altre squadre sono partite per vincere, altre realtà con budget importanti. Ne cito una a caso il Mandure che poi ha vinto la finale di Coppa Italia di Lettanti. L'Ugento, mi correga se sbaglio, è partita per salvarsi, anche perché quest'anno era complicatissimo salvarsi in eccellenza. E alla fine si è ritrovato addirittura a non giocare i playoff per l'ampio margine di vantaggio sulla seconda. Ci vuole raccontare in poche parole il miracolo Ugento? Guarda Mario, noi a fine stagione dell'anno scorso, in questo periodo, naturalmente diversi giocatori sono andati via, siamo dovuti ripartire da zero, ricostruire interamente la rosa. Abbiamo puntato sul mister Oliva, che è stato con noi diversi anni fa, che ci aveva portato a vincere due campionati. Quindi abbiamo insieme a lui ricostruito da zero la squadra, l'unico dell'anno scorso, se non sbaglio, è Maggi, il portiere, che è rimasto. È chiaro che con la formula delle sei retrocessioni tutte le squadre sono dovute attrezzare, perché anche noi abbiamo cercato innanzitutto di evitare quello che era la retrocessione. Però lavorando sul campo ci siamo accorti che comunque avevamo quelle potenzialità per puntare ad una posizione nella griglia dei play-off. E pian piano ci siamo riusciti. Certo non era in programma arrivare a vincere il girone con nove punti di distacco rispetto alla seconda, che era maggiormente accreditata per vincere questo campionato, con un budget nettamente superiore ai nostri, però comunque in cuor nostro sapevamo che il lavoro che stavamo facendo, sia in società sia anche dal punto di vista tecnico dello staff, avevamo queste potenzialità per puntare ad una situazione abbastanza importante. Ripeto, i programmi non erano vincere ed evitare completamente i play-off, erano quelli di puntare almeno nei primi quattro e poi giocarcela, però la costanza, l'impegno, il lavoro e la passione che tutte le componenti di questa associazione sportiva mettono da anni, grazie a questi fattori siamo arrivati oggi a giocarci la Serie D. Che non è più un sogno ma un obiettivo concreto, è realizzabile. Domenica c'è la finale da Francavilla Fontana, tifosi dell'Ugento che saranno collocati nel settore ospiti e presso la tribuna a copertà laterale la tifosera organizzata del Biceglie invece troverà posto nel settore poltronissime distinti, tifosi non appartenenti ai gruppi organizzati del Biceglie saranno collocati invece nella nuova tribuna centrale. Che messaggio ti senti di lanciare ai tifosi dell'Ugento che vi seguiranno per questa importantissima finale? Il loro sostegno sarà fondamentale, quindi li aspettiamo numerosi, così come sono stati numerosi durante tutto questo percorso di campionato. Sicuramente saranno tanti perché sto ricevendo diverse chiamate, diverse persone che comunque già hanno preso i biglietti, si stanno organizzando con i pullman, con le macchine, quindi sarà sicuramente una festa, una festa dello sport, e una giornata sarà una giornata bella e quindi noi contiamo sul sostegno, sul calore dei tifosi, anche perché possiamo dirlo, i nostri tifosi sono stati il dodicesimo uomo in campo, perché i nostri atleti, i nostri ragazzi vedendo i tifosi comunque avvertono quello stimolo in più per lottare e far meglio per l'Ugento. Quindi li aspettiamo, però sicuramente non mancheranno. Siamo convinti che sarà una grande festa, perché poi l'eccellenza che finalmente il prossimo anno tornerà con il format Agione Unico, sa sempre regalare numeri importanti e belle scene sugli spalti. L'ultima, Presidente, tra un po' si apre la finestra di mercato e noi poi approfondiremo con le nostre trasmissioni. Allora ti chiedo, chi potrà essere il nuovo Gan Fornina, che l'anno scorso era con voi e quest'anno ha avuto un impatto pazzesco, notevole, con la serie D, con la maglia del Martina? Guarda, non mi sento di fare i nomi, tanto ci sono i nomi che circolano e gli addetti ai lavori già sanno quali sono quelli che possono essere i Gan Fornina dell'occasione. I nostri sono tutti ragazzi eccezionali, sono tutti ragazzi che comunque la domenica si impegnano e danno il massimo per la maglia. Qualcuno di loro, come hai detto tu, sono già attenzionati da categorie superiori. Noi faremo di tutto per trattenerli perché è nostro dovere cercare di dare la possibilità a questi ragazzi di esprimersi sempre di più al meglio. Anche perché poi magari potrebbero salire di categoria proprio insieme a Lugento, quindi giocare ugualmente in serie D, Presidente. Grazie per il momento per la disponibilità, grazie a Massimo Denuzzo, Presidente dell'Ugento e naturalmente bocca al lupo per la gara di domenica. A presto. Grazie a voi e complimenti ancora. Grazie.